Calcio di punizione a favore del River Chiesi 95, limite dell'aria nostra, pareggio, pareggio, il nostro Matteo si è elevato però non è riuscito ad arrivare sul pallone, uno a uno, uno a uno. Comunque ci tengo a precisare che il risultato non farà classifica in quanto il River Chiesi questa è la squadra B.